In fiamme una microcar in transito nei pressi dell'incrocio di via Lamaccio a Sulmona. Tanta paura nella prima serata di ieri per due giovanissime del posto. L'incendio si è verificato poco prima delle 22 e sarebbe divampato per cause del tutto accidentali, forse per un problema elettrico. Stando alle primissime informazioni sarebbero state le due occupanti ad avvertire un odore acre mentre percorrevano via Lamaccio, che uno dei residenti della zona che si trovava in quel momento in strada, accortosi che qualcosa non andava allertato immediatamente il centralino del 115. In pochi minuti il mezzo è stato letteralmente divorato dalle fiamme. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco di Sulmona per spegnere quelle fiammelle rimaste e la polizia per il lieve diritto. Fortunatamente nessuna conseguenza per le due giovanissime a parte il comprensibile spavento. Stiamo bene anche se la paura è stata forte. eravamo affezionate la vettura, hanno commentato le due malcapitate. Una prima serata tutt'altro che tranquilla per il quartiere.